È un progetto atteso da anni dagli olivicoltori. Lo sostiene l'organizzazione Olivetti Terra di Bari che è favorevole alla realizzazione a Terlizzi di un impianto per lo smaltimento della Sansa. Sentiamo. Per il bene del comparto olivicolo pugliese riteniamo sia importante la realizzazione di questo impianto previsto nel territorio di Terlizzi. Sono le parole di Olivetti Terra di Bari a proposito dell'opera proposta da Sorgenia Biopower che risolverebbe, secondo l'organizzazione, la gestione e lo smaltimento della Sansa ottenuta dalla lavorazione delle olive da parte dei frantoi. Questione che genera problemi sia economico-finanziari, per i costi di trasporto e smaltimento, attualmente a carico delle aziende agricole, sia ambientali per lo sversamento della Sansa nei terreni a fine lavorazione. Per il prossimo 25 gennaio la Regione Puglia ha convocato una conferenza di servizi per valutare il rilascio dell'autorizzazione unica. Oltre ad avere impatto zero sull'ambiente, l'impianto produrrebbe carburante pulito per mezzi pesanti e fertilizzante naturale. Auspichiamo, conclude il presidente dell'organizzazione, Gennaro Sicolo, che le autorità competenti possano concedere, senza ulteriori ritardi, l'autorizzazione per questo progetto, atteso da anni dagli olivicoltori della zona.